230 veicoli e 250 persone controllate tra conducenti e passeggeri, 76 con tranvenzioni elevate per violazione al codice della strada, un motorino e un'autovettura sequestrati per mancanza di copertura assicurativa. Questo il bilancio dell'incessante attività di controllo del territorio in questi mesi da parte della Guardia di Finanza di Caltanissetta nell'ambito del piano Trinacria, nonché dei servizi di controllo straordinari contro il terrorismo disposti dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che da mercoledì scorso vedono impegnate le fiamme gialle assieme alle altre forze di polizia. Analoghi i servizi erano già stati predisposti nei mesi scorsi e avevano portato al deferimento all'autorità giudiziaria di una donna eritrea trovata senza documenti e permesso di soggiorno. Sequestrati inoltre due apparecchi di intrattenimento non conformi alla normativa sui giochi, 250 cd e dvd pirata e sanzionati quattro ambulanti per omessa installazione del misuratore fiscale nonché tre esercizi commerciali che durante le serate della Movida Nissena hanno somministrato alcolici a minori di 18 anni. Controlli che saranno intensificati durante le festività natalizie al fine di contrastare la contraffazione, la pirateria audiovisiva e la commercializzazione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza europea quali luminarie natalizie, giochi per bambini, articoli pirotecnici nonché il contrasto alla ventita di tabacchi privi del sigillo di monopolio e qualsiasi altra forma di contrabbando.